Incastonato fra le vette dolomitiche e sottoguda, già riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia e attualmente in corsa fra i nove del Veneto a rischio abbandono, destinato a rinascere grazie ai fondi del PNRR, è di certo una delle località della provincia che ancora più soffre per le ferite di vaia. Un uragano che con la sua brutalità fra i molti aspetti ha spazzato via anche i famosi serrai attorno ai quali ruota il turismo della valle ed ora da tempo inevitabilmente tristemente chiusi. Dopo gli imminenti interventi, con aprile, quando il meteo sarà favorevole, si dovrebbero poter riprendere gli ulteriori lavori di messa in sicurezza. Si potrà iniziare con entrare con i mezzi, quindi escavatori, pacchere e camion per portare via materiale, per costruire argini, brigli e ponti, quindi la messa in sicurezza del torrente Petorina anche in funzione del sottostante villaggi sottoguda in primis. Azioni volte a scongiurare quanto di drammatico questa comunità, attanagliata inoltre dallo spopolamento, ha già vissuto. Tutto deve essere più sicuro di prima in modo che se arriva un altro evento, non dico come vaia, speriamo di no, ma anche più piccolo, non possa più fare i danni che ha fatto vaia. Volano per il turismo, sia estivo che invernale, i serrai rappresentano un trionfo della natura che ha reso il territorio di sottoguda famoso in tutto il mondo. I serrai sono uno dei punti più importanti in Europa per l'arampicata su ghiaccio, quindi prima di vaia, quando erano percorribili e le cascate erano fattibili, veniva gente da tutta Europa davvero a scalare queste gole. 150.000 sono stati gli accessi registrati nell'estate 2018 ai serrai. L'auspicio condiviso per la vitalità e la sopravvivenza di tutto il villaggio è che possano tornare al più presto fruibili. Io conto che per il 2023 si possano vedere di nuovo percorribili, quindi appena possibile saranno riaperti e si darà il via di nuovo anche a quella curiosità turistica che ci ha resi famosi.